Un'altra novità per quanto riguarda i prodotti Uberti è legata al mondo dell'action shooting. Abbiamo realizzato un kit e un'arma con uno short stroke, stiamo parlando del 1873 Peacemaker, la nostra Cattleman, con questo short stroke che ci permette di ridurre la corsa del cane in modo da rendere le operazioni di carica molto più veloci, dove il tiratore ha necessità di essere molto rapido nella ripetizione del colpo. Per il tiro veloce abbiamo creato un kit apposta denominato Cattleman. per cui si è cambiato la forma del grilletto, il cane e la leva al resto cilindro per far fare al cane molta meno corsa ed essere pronto a sparare prima. Si può vedere qua la monta normale è questa e invece la short stroke diventa questa, per cui il cane fa decisamente meno molta meno corsa per essere armato in monta di sparo ed essere più pronto. Il prodotto è molto interessante perché ci permette di inserire uno short stroke anche su una vecchissima Uberti, semplicemente sostituendo tre componenti. Stiamo parlando del grilletto, l'elevatore e il nottolino. Questi tre componenti che sono molto piccoli ci permettono appunto di avere una perfetta compatibilità con i nostri precedenti modelli Uberti, quindi di ridurre la corsa del cane in fase di armo, in fase di carica. Questo modello short stroke è stato pensato espressamente e richiesto dai tiratori agonisti per quanto riguarda le gare di action shooting, dove il tiratore ha necessità di essere molto rapido nella ripetizione del colpo. Grazie! 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 Grazie a tutti.